Sempre a Cagliari davanti al call center Gemini Interteam, una vertenza di cui ci parla Eleonora Bullegas. I 450 lavoratori del call center cagliaritano Interteam lanciano un appello alle istituzioni perché non vadano in fumo 10 anni di lavoro. La loro sorte si deciderà venerdì prossimo. I vertici aziendali hanno spiegato stamattina Cagliari, il segretario provinciale della Fistel Cisla Alessandro Milia e il responsabile sindacale per la CGL Michele Spanu hanno annunciato che venerdì i dipendenti dovranno scegliere il loro futuro. Le alternative sono due, o lo scioglimento coatto con la dimissione del presidente relativo al licenziamento dei lavoratori oppure la risoluzione volontaria della cooperativa con l'integrazione dei lavoratori in Gemini. In quest'ultimo caso però, precisano i due rappresentanti sindacali, ci sarebbe la possibilità di essere assunti part-time per appena 25 ore settimanali e con uno stipendio di poco più di 500 euro. La cooperativa che eroga servizi per conto di Telecom Italia aveva attraversato tra dicembre 2005 e gennaio 2006 una prima crisi del gruppo Gemini Interteam. In quell'occasione era scattata la mobilità per i dipendenti di Gemini e si era verificato il ridimensionamento di Interteam. Gli operatori del call center, sostenuti dai sindacati, avevano promosso azioni di protesta. A quel punto era stato richiesto l'intervento dell'assessorato regionale a lavoro. Dopo alcuni incontri si era discusso di stabilizzazione della condizione economica aziendale con la gestione del servizio di informazione del digitale terrestre. Ma, secondo quanto dichiarano Milia e Spanu, la commessa non è mai stata erogata. Domani intanto sono previste assemblee sindacali a oltranza.